bello ragazzi e benvenuti sul canale ragazzi io ti ho al 22esimo episodio di msl quando mi gioco di nuovo con l'utilizzo il episodio è arrivato ovviamente non via 0 e non ci sono a ripetere l'udese che posso stare l'udese che posso stare l'udese non so dov'ese ho 11 euro sono andato alla Lecce Roma Brescia ole un sacco come Alio un eserciato e ma parte la... un eserciato 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 il seraciato non so il caldo e non no sito non ho passato tutto il campo non superato c'è un campo non superato perso non sport di cerchi musso non semplice molto forte forte fosse nella nata con il mio corpo si è pure kaku lukaku è niente mamma 3 Anche Già l'ho proprio Perciò Ma la fisa non l'ho sposto comunque Perciò se spazzino a campo La cimacca I tre muri I muri E godi pirachi, godi che siano pirachi Ehi Ma mi adda Entrugio mig gone Midak scoligno che godi scena ragazzi questo è il secco non coltisco lignare e Sì C'è un bel giallo Che cosa Che cosa Che cosa è l'autore Che cosa è l'autore Che cosa è l'autore no, 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 ok, no Grazie a tutti. 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 e a tutti. video con... il turino...